I tagli dei diversi governi alla scuola, la diminuzione delle ore di insegnamento hanno contribuito allo scadimento della cultura e all'impoverimento materiale del territorio. Una riflessione sulla quale si dipanerà il dibattito con diversi relatori nel terzo simposio organizzato oggi pomeriggio alle 17.30 nello studio dell'ingegnere Flavio Brunetti in Viale del Castello al numero 3 a Campobasso. La scuola dei ragazzi scordati è il titolo dell'incontro partendo da un'analisi storico-filosofica del concetto di scuola e attraversando altri aspetti, il tutto alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico. Oggi è la vigilia dell'apertura delle scuole qui nel Molise e come la vigilia di Natale si vive con la malinconia delle luminare appese degli alberi di Natale, come la vigilia di Pasqua che ci porta alla resurrezione, all'avvento della primavera, si vive con la speranza di pace riversa nelle palme o nelle uova di Pasqua e così questa vigilia dell'apertura delle scuole delle Molise si vive come ogni anno con la pitturazione delle strisce pedonali, delle strisce per i parcheggi. Ed in questo senso, in questo clima che noi abbiamo chiamato questo simposio, la scuola dei ragazzi scordati, scordati dalle istituzioni, dai governi che ogni qualvolta inizia un anno scolastico parlano di riforma della scuola e ogni riforma prevede solamente tagli della scuola e dequalificazione culturale della scuola stessa. E scordati perché in questo clima di dequalificazione si possono, come una vecchia cordiera di chitarra, scordare da soli, rifugiandosi nella loro solitudine, rifugiandosi nel loro telefonino. Una riflessione a tutto campo con interessanti spunti. Il messaggio, ha detto Brunetti, vuole però essere chiaro. Anche una scuola dequalificata porterà comunque a dequalificare contemporaneamente il territorio. Allora noi vogliamo lanciare questo crito d'allarme, vogliamo riflettere su come possiamo fare in modo di difenderci da un attacco alla cultura scolastica e difendere l'economia termolise.